Buongiorno, sono Andresca Valero, dobbiamo in sette anni, sono figlio di musica, ma abito a Milano da sette anni. Città che amo e che ringrazio per avermi permesso di realizzare il mio sogno, cioè creare la mia linea, che ovviamente senza il me di vita e senza il nome di Milano non credo di essere più. Il mio percorso nella moda mi inizia da prima con una religione formazione presso una scuola di alta moda alla città di Messico, con il nome di Janet Lane. Da cui dico una borsa di studio che mi porta in Italia nel 2001 per un corso di fashion design presso l'Istituto Panamoni a Milano. Dopodiché con una successiva borsa di studio vado a Parigi nel 2003 all'Istituto Paris American Academy per l'espezializzazione di Aucotour. Tornato a Milano, collaboro come assistente per alcuni stilisti, ma la mia intraprendenza è voglia di fare una mia propria linea che mi porta all'espezione del mio marchio San Andres Milano, nata nel 2005 e ora arrivata alla prima stagione. Grazie alla mia partecipazione nell'edizione 2007 al concorso Next Generation, organizzato sempre dalla Camera Nazionale della Moda, ho avuto il privilegio di presentare per prima volta a Milano Moda Donna la mia collezione e questo è stato il trampolino di lancio per far conoscere il marchio a livello internazionale. Dopo un anno di maturità la Camera Nazionale della Moda crede nuovamente nel livello del marchio e la sceglie il marchio per questo grande progetto Fashion Incubator che ci ha guidato nello sviluppo di ogni settore dell'azienda. San Andres Milano è un marchio disegnato e prodotto interamente in Italia, realizzato da me nel mio laboratorio interamente, cioè tutta la collezione, ogni capo disegnato e prodotto. Sicuro ogni fase del processo, in specifico la vestibilità sartoriale intanto dell'elaborazione modellistica, partendo dall'idealizzazione del figurino fatto a mano fino al cartamodello e le prove su tela. Per poi passare al taglio del tessuto si arriva alla confezione del capo utilizzando metodi artianali con ridiniture fatte a mano. La ricerca dei tessuti, la scelta degli accessori e la qualità e l'accurata attenzione a ciò che sarà in boga sono i punti fondamentali per l'attrazione della collezione San Andres Milano. La immagine che caratterizza la donna di San Andres Milano è molto chiara e coerente. Elementi di mascolinità e disponibilità si fondono nella creazione delle linee classiche, si privilegia la semplicità dell'uso per la creazione di un'eleganza con accenti retro, linee ben calibrate per una donna consapevole dei cambiamenti socioculturali e della propria disponibilità. Fin da suo esordio il marco è stato apprezzato dai vari istituti internazionali della stampa e degli adetti ai lavori e spero che la collezione San Andres Milano succedi anche in voi un'ottima impressione e della luce e il grande impegno e le fatiche che ogni giorno mettiamo in essa per distinguerci e collegarci. Grazie per la visione!